www.redigio.it e la storia continua Alcune costumanze speciali nella regione della Lombardia E ora alcune usanze proprie di certe stagioni e feste autunnali 8. Durante le lunghe serate d'inverno in quasi tutta la campagna Le famiglie dei contadini si raccontano nelle stalle Gli uomini a giocare con le carte Le donne a dire il rosario prima E a filare poi mentre ascoltano religiosamente sedute sopra gli scanni di legno I cosiddetti proverbi Chi le racconta è sempre un contadino anziano O qualche viandante è capitato per caso nel villaggio E alloggiato per la notte in qualche stalla 9. Ai campeggi i contadini hanno trovato un altro modo di divertirsi in quella stagione 15 o 20 di essi una sera, fra le altre, si mettono in testa E decidono di preparare uno spettacolo per la fine di carnevale Questo per lo più consiste nella recita di una commedia popolare O per i costumi bizzarri che le parti indossano Prende il nome di mascherata E scelta la commedia si comincia a studiarla Chi rappresenta un personaggio, chi un altro Secondo i gusti e l'indole di ciascuno Ma il lavoro di preparazione è lungo Perché quei contadini impiegano molto tempo ad imparare Ciò che devono dire durante l'azione E questo lavoro si fa in una stalla di sera In mezzo a grandi discussioni O a un gran chiasso Ed è appunto un bel divertimento per un estraneo Trovarsi là dentro in quell'ora Potendo egli osservare gli sforzi inauditi Che quella gente deve fare per mettersi in testa Un po' di prosa stampata Gli strafalcioni che pronunciano Le spiegazioni che si danno I moccoli che mandano Le braccia che si agitano nelle maniere più goffe I piedi che pestano ad ogni istante E dopo una quindicina di giorni di studio I rustici comici cominciano le prove Che durano perlomeno un mese Anche allora c'è da divertirsi Un mondo a vederli lavorare insieme Finalmente si va in scena Ma non innanzi al pubblico del proprio paese Prima tentano quello di qualche paesello vicino Dove in generale si fanno ammirare Poi ritornano al paese Trasformano un cortile spazioso In un teatro di campagna E fanno tutti i preparati necessari Per il buon andamento dello spettacolo Che deve avere luogo la sera del sabato grasso Quella sera tutto il paese è in teatro Lo spettacolo incomincia Procede e finisce Fra il riso e gli applausi del pubblico soddisfatto Ma la festa non finisce lì Dopo la recita c'è sempre un banchetto E un ballo popolare Che si prolunga per tutta la notte In quasi tutti i paesi L'ultima sera di carnevale Si vuole rivestire di paglia Un palo Che si pianta in mezzo a una piazza E gli si dà fuoco La gente intorno contempla E canta L'addio al carnevale che muore Finché il fuoco non sia cessato del tutto In un paese vicino Si formano dei grossi covoni di paglia Che poi si legano intorno a parecchi pali La notte è buia Si applica il fuoco ai covoni E mentre questi ardono tutti insieme Pare che il paese Si impreda le fiamme In un paese vicino Sul palo Si suol mettere prima dell'incendio Anche un piccolo animale Che per lo più è un gatto Allora E altrove Questa usanza si trasporta Al primo giorno di quaresima Ma allora l'uomo che pianta il palo in piazza E che è vestito in modo ridicolo Mette sull'estremità superiore di esso Un pesce Per indicare il principio Dell'astinenza quaresimale 11 Il 15 marzo C'è un grande concorso di gente Nel santuario Di un paese Dove si vanno a comprare i cosiddetti Filsoni Che sono corone di castagne Secche alternate con mele o arance 12 In un altro paese La sera di tutti i giovedì Di marzo I ragazzi Sogliono correre da una via all'altra In un grande Moltitudine E schiamazzando E battendo arnesi Di lata Di ferro O di altro metallo Per ricordare La fuga Delle streghe Che un tempo Abitavano in quel paese 13 Il giorno di San Giorgio Gli abitanti di Pavia Vanno a bere il latte In campagna 14 La sera del venerdì santo Si fa quasi dappertutto Una processione religiosa E in una cava Si porta attorno a un'urna In cui giace disteso il Signore Sulle finestre delle case Si osservano Dei piccoli altari Con immagini sacre E ceri accesi Oppure Candidi Lini E palloncini di carta A vari colori La via percorsa Dalla processione Coperta di tappeti Ma su questi Debbano passare Soltanto i sacerdoti E gli otto portatori Dell'urna In un paese vicino Si preparano Per la circostanza Archi di trionfo Illuminati E si nascondono Con tappeti E tendoni I luoghi pubblici Meno decenti E si improvvisano Due chiesuole In legno Ai due estremi Del paese Esse sono come L'emanazione Dei due partiti opposti Che si mettono In gara Fra di loro Che si mettono In gara fra di loro Per offrire All'occhio della gente Lo spettacolo Più bello Anche i prospetti Delle case Durante il passaggio Della processione Sono piene Di lumi Ad olio In un altro paese In particolare Più notevole Di questa processione È che un membro Della confraternita Di San Bernardino Vestito di bianco Con sulle spalle Una grossa croce Di legno Vuota Viene tirato Per mezzo Di una corda Da un altro confratello Vestito anche Egli di bianco Ad imitazione Di una delle Principali scene Della passione Di Cristo www.redigio.it E la storia Continua Di una Di invenzione Di una Di una Di una